Corso C, ricordiamoci di controllare sempre di essere nella versione del 2018 che è quella più completa, tradotta e descritta sul sito di programma al futuro e andiamo a fare la lezione numero 5, programmare con la collezionista Lei è Laura, una collezionista che va in giro a raccogliere diamanti In questo video introduttivo viene descritto un po' il meccanismo di funzionamento di questo ambiente e sotto tutto in italiano noi lo vediamo direttamente nello svolgimento degli esercizi Qua viene indicato che c'è questo blocco nuovo si può volendo utilizzare per ripetere delle istruzioni ma verrà spiegato in modo completo più avanti quindi possiamo ignorarlo per il momento Abbiamo sempre un labirinto, qui Laura si deve muovere nelle caselle del labirinto con l'obiettivo di raccogliere tutti i diamanti o comunque in base a quello che viene indicato qua nella descrizione dell'esercizio e in questa lezione non vengono introdotti nuovi concetti di informatica siamo sempre di fronte alle singole istruzioni, alla sequenza di istruzioni però in questo caso oltre alle istruzioni di movimento dobbiamo considerare anche un'altra istruzione un'istruzione che esegue un altro tipo di azione, cioè la raccolta del diamante quindi non basta muoversi, Laura non lo raccogli in automatico solo per il fatto che ci passa sopra ma bisogna dargli il comando di raccogliere il diamante intanto leggiamo qua sopra che c'è scritto questa è Laura l'avventuriera, muovila per farle raccogliere più diamanti che puoi però vediamo qua sotto che c'è indicato un obiettivo siamo a zero diamanti raccolti su uno cioè il minimo obiettivo da raggiungere è un diamante poi ci si può impegnare per fare un programma più completo fino a raccoglierli tutti però diciamo che alla luna è richiesto di raccogliere almeno uno cioè se noi facciamo questo programma vai avanti e raccogli l'esercizio è già risolto è sufficiente visto che si può anche voler fare di meglio si può dire ricomincia e non si viene mai mandati direttamente nell'esercizio successivo ma dobbiamo premere noi il pulsante termina quando siamo soddisfatti non creiamo magari il programma completo che li raccoglie tutti che così anche inizio lezione è anche un po' complesso però possiamo ad esempio aggiungere un'altra istruzione vai avanti salire quindi girare a sinistra e andare avanti in questa maniera già ne raccogliamo due e chiaramente raccogliere il secondo diamante ok abbiamo raccolto due oggetti e siamo soddisfatti qua abbiamo un percorso lungo quindi uno due tre quattro istruzioni vai avanti e poi dobbiamo raccogliere un diamante semplicemente e qui si viene mandati direttamente l'esercizio di dopo perché non c'è alternativa leggiamo un po' cosa dice il testo dell'esercizio trovi già nell'area di lavoro tutti i blocchi di cui hai bisogno ma non sono collegati tra loro riordina quindi questi blocchi per raccogliere tutti i diamanti e risolvere l'esercizio quindi non solo non sono collegati ma non sono neanche nell'ordine giusto noi dobbiamo fare uno o due passi avanti poi girare a sinistra un passo avanti e raccogliere il diamante ecco fatto trovi già nell'area di lavoro tutti i blocchi di cui hai bisogno ma non sono collegati tra loro riordina questi blocchi esattamente come prima quindi noi dobbiamo andare avanti qua facciamo un po' di spazio che sennò non si capisce nulla poi girare a destra uno o due blocchi vai avanti raccogliere girare a sinistra uno o due blocchi vai avanti e raccogliere l'ultimo in questo caso i blocchi sono nell'ordine sbagliato quindi diciamo che è un esercizio di debugging quindi andiamo a vedere dov'è il problema utilizziamo il pulsante fai un passo avanti qua non deve raccogliere togliamo sto blocco raccogli e ricominciamo ad analizzare e anche qua deve raccogliere deve girare a destra ok però qua si che deve raccogliere qua e l'altro lo mettiamo in fondo ricordiamoci del processo di debugging che prevede di eseguire un'istruzione per volta fino al primo errore poi ripetere tutte le volte qui adesso l'ultimo gliel'ho attaccato perché proprio eravamo all'ultima istruzione e veniva evidente di nuovo blocchi nell'ordine sbagliato da riordinare allora seguiamolo a menti in questo caso avanti poi gira a sinistra non a destra poi dobbiamo andare avanti ok raccogliere poi qua gira a sinistra io direi che dobbiamo ancora andare avanti mettiamo quello che c'è qua sotto andiamo avanti poi giriamo a destra poi andiamo avanti poi raccoglie poi andiamo avanti poi raccoglie e ci siamo ecco fatto una sfida anche dopo aver messo i blocchi nell'ordine giusto mancare ancora qualcosa quindi dobbiamo sia mettere in ordine che aggiungere quello che manca allora qui abbiamo avanti 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 però dobbiamo raccogliere nel mentre quindi dove li peschiamo mettiamo li qui poi semmai li cambiamo dopo quindi avanti raccogli avanti raccogli c'è già poi ci vuole un altro avanti raccogli poi giriamo a sinistra avanti avanti bisogna andare due volte avanti raccogli poi avanti 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 gira a sinistra avanti e raccogli adesso controlliamo con lo strumento di debugging per vedere con calma se ho fatto correttamente avanti raccogli avanti raccogli avanti raccogli a sinistra ahia non era sinistra però col processo di debugging lo abbiamo beccato facilmente destra ricominciamo destra avanti avanti raccogli avanti avanti sinistra avanti e raccogli con un piccolo rose ce la siamo cavata e qui rispetto agli altri è abbastanza semplice avanti raccogli avanti raccogli avanti avanti raccogli e via qui abbiamo un percorso chiuso due blocchi vai avanti e raccogliamo poi giriamo a destra due blocchi vai avanti e raccogli e raccogliamo poi giriamo a destra due blocchi vai avanti e raccogliamo vedendo un percorso così ripetitivo qualcuno potrebbe avere la tentazione di usare il blocco ripeti ma lo teniamo poi per la prossima lezione qui abbiamo un breve percorso a scalinata avanti raccogli gira a sinistra avanti gira a destra avanti e raccogli otto blocchi su otto se non ci sono errori ci siamo perfetto ecco questo è un esercizio di predizione non possiamo eseguire il codice finché non abbiamo risposto alla domanda e dopo che avremo risposto alla domanda ed eseguito il codice non potremo più cambiare la risposta quindi è importante perché l'alunno è spinto a ragionare sul codice va benissimo fare i tentativi di esecuzione prove ed errori però a volte si esagera magari nell'eseguire tante ripetizioni tutte casuali finché non viene la risposta esatta allora in questo caso almeno si è obbligati a ragionare sul codice senza poterlo provare quindi guarda molto attentamente il codice riprovato nell'area di lavoro che cosa succederà quando chi creare i suoi esegui prima di leggere le domande è meglio guardare il codice in modo da non essere influenzati vediamo cosa fa il codice vai avanti raccogli già qua dopo aver fatto un passo avanti raccogli in una casella dove non c'è nulla è già un errore non so neanche se è il caso di continuare andiamo a vedere quali sono le risposte usando questo codice Laura raccoglierà 4 diamanti no perché si blocca subito il programma provocherà un errore perché Laura cercherà di raccogliere un diamante in una casella che non ne contiene ed è questa leggiamo sempre le altre domande per evitare magari risposte impulsive usando questo codice Laura raccoglierà tutti i diamanti non abbiamo detto di no oppure uno se non lo sa lo scrive che non lo sa eseguiamo vediamo che qua è diventato grigio e non si può più modificare la risposta è corretta di nuovo un esercizio libero in cui si devono collezionare più diamanti che si può l'obiettivo minimo è un diamante noi facciamo tutti gli esperimenti che vogliamo e poi diciamo termina quando siamo soddisfatti dobbiamo avere almeno raccolto un diamante per superare l'esercizio in modo corretto ok allora dobbiamo fare avanti raccogli avanti raccogli avanti raccogli e abbiamo raccolto i diamanti di questa fila qua qua la tentazione magari di usare un blocco di ripetizione visto che c'è potrebbe farsi sentire notevolmente vediamo che qua abbiamo questa sequenza che si ripete allora proviamo anche a utilizzarla in modo che se qualche aluno la usasse siamo già pronti vediamo che il blocco di ripetizione funziona in questa maniera tutto ciò che c'è all'interno viene ripetuto il numero di volte che c'è scritto qua in altre parole si entra nel blocco si esegue un'istruzione dopo l'altra arrivato in fondo si ritorna in cima questo per tre volte in questo caso buttiamo via queste arrivati qua noi ci dobbiamo girare a sinistra e dobbiamo raccogliere questi due diamanti perché questo l'abbiamo già raccolto quindi dobbiamo fare avanti raccogli e di nuovo avanti raccogli quindi in questo caso per due volte ci abbiamo preso gusto adesso utilizziamolo poi giriamo a sinistra di nuovo e dobbiamo di nuovo fare avanti raccogli avanti raccogli quindi un altro blocco di ripetizione da due avanti raccogli e potremmo fermarci qui non è necessario raccoglieri tutti ok non premo termina perché sennò finirebbe la lezione come sempre andiamo a vedere se ci sono degli esercizi supplementari eccole qua due esercizi supplementari facciamo il primo qua viene anticipato un concetto che poi ci sarà poi in lezioni successive non abbiamo più solo un diamante per ogni casella ma possiamo averne anche più di uno quindi dobbiamo prevedere di raccogliere più diamanti quando è il caso avanti avanti siamo qua tre volte raccogli eccolo qua poi avanti avanti in questo caso due volte raccogli avanti avanti un raccogli poi avanti giriamo a destra andiamo avanti e qui abbiamo quattro volte raccogli usiamo una volta il blocco a ripeti e siamo a posto passiamo all'ultimo esercizio supplementare eccoci qua in questa cosa ci sono 20 diamanti raccogliene almeno 10 allora qua viene data una sfida con 41 blocchi la sfida è raccogliere almeno 10 non necessariamente tutti vediamo un po' per raccogliere 10 diamanti basta fare un percorso che prende in mezzo labirinto o in questo senso oppure in questo senso oppure anche in questo senso o in questo senso prendiamo non a caso è già rivolto verso il basso quindi noi scendiamo verso il basso allora avanti avanti poi giriamo a destra andiamo avanti e raccogliamo due diamanti poi andiamo avanti giriamo a destra andiamo avanti e raccogliamo tre diamanti poi avanti avanti e raccogliamo quattro diamanti poi avanti a destra e avanti e raccogliamo l'ultimo in questo caso con 23 blocchi abbiamo raggiunto l'obiettivo e la lezione è completata alla prossima